Tortini di patate con cuore filante e carciofi. Questi ci mancavano. Private i carciofi delle foglie più dure, quindi eliminate la parte più coriacea del gambo, ricavate il cuore ed eliminate la peluria. Affettateli e teneteli in acqua cidulata. Rosolate l'aglio nell'olio, scolate i cuori di carciofo, aggiungeteli, salate e lasciate andare 10 minuti. Mettete in una ciotola e aggiungete il formaggio spalmabile. Cuocete le patate lessandole oppure al microond a 750 watt per circa 20 minuti. Schiacciatele, aggiungete formaggio grattugiato, pepe, pangrattato, un uovo, un pizzico di sale e mescolate. Ungete i pirottini, ricopriteli di pangrattato e quindi farcite per il metà con il composto. Aggiungete quindi pezzetti di formaggio e i carciofi e richiudete con altro composto livellando per bene. Un po' d'olio, un po' di pangrattato dritto in forno a 200 gradi per 15-20 minuti, ottenuto alla doratura perfetta, sono pronti per essere portati in tavola. Ma come al solito, è il momento di assaggiare. Mamma che buoni!